Oggi vediamo le caratteristiche principali e il funzionamento del dissuasore acustico per l'allontanamento degli uccelli nocivi della serie BS20L. Per l'accensione, è sufficiente inserire la spina maschio nella femmina. Il dissuasore partirà immediatamente, poiché non ha un pulsante di accensione fisico. Per quanto riguarda il posizionamento, il dissuasore va collocato il più vicino possibile al punto in cui si raduna il maggior numero di uccelli durante la giornata. Il volume deve essere impostato tra 12 e 14. Prima di installare il dissuasore, è importante capire perché gli uccelli sono attratti in quel particolare luogo. Con un'attenta osservazione cerchiamo di stabilire se la zona infestata è un luogo di passaggio, c'è del cibo o hanno nidificato. Una volta capito il motivo, sarà sicuramente più semplice allontanarli anche nel lungo periodo. Particolare attenzione va prestata in presenza di nidi. È necessario rimuoverli prima di installare il dissuasore, altrimenti il problema non si risolverà. È importante ricordare che il richiamo del nido è sempre più forte di qualsiasi metodo di dissuasione. Perciò, è fondamentale bonificare l'area dai nidi prima di installare il dispositivo. Una volta eliminati i nidi, bisogna impedire nel limite del possibile ai nocivi di rifare il nido nella stessa identica posizione. Il dispositivo è dotato di quattro tasti, due per il cambio traccia, avanti e indietro, e due per la regolazione del volume più e meno. Il dissuasore ha due modalità di funzionamento, una completamente manuale, basata sui canti da C1 a C10, e l'altra completamente automatica, basata sui programmi da P1 a P9. Inoltre, è possibile creare una lista personalizzata, da 2 a 5 canti, con tempi di funzionamento e pause regolabili a piacimento. Vediamo ora come accedere e configurare il menu impostazioni. Per accedere al menu impostazioni, dove si può regolare il tempo di funzionamento, il tempo di pausa, la funzione casuale, la regolazione del sensore di luce, la modalità di funzionamento, solo giorno, solo notte o continua, e la selezione degli altoparlanti, interni, esterni, o entrambi contemporaneamente, la procedura è semplice. Per accedere al menu impostazioni e fare le regolazioni, posizionarsi su un qualsiasi canto della lista, da C1 a C10. Nota bene, tutte le regolazioni su cui andremo ad intervenire nel menu impostazioni, avrà effetto su tutti i canti da C1 a C10 e la lista personalizzata. Non si avrà, invece, nessun effetto sui programmi, da P1 a P9, che hanno tempi di funzionamento e pausa automatizzati e non modificabili. Per entrare nel menu impostazioni, premere contemporaneamente i tasti SEL e SET per 2 secondi. La prima voce di menu mostrata è TF, tempo di funzionamento, seguita da TP, tempo di pausa, R di casuale, LS, regolazione sensore luce, DS, modalità di funzionamento giorno, notte o continua, SP, selezione degli altoparlanti, DL, regolazione luminosità display, E, uscita dal menu. Per modificare un'impostazione, una volta selezionata la voce di menu desiderata, premere il tasto SET. Il dissuasore mostrerà l'impostazione attuale lampeggiante. Per modificare, usare i tasti più o meno a seconda delle esigenze, e premere SET per confermare. Ad esempio, per impostare un tempo di funzionamento di 50 secondi, selezionare 05, dove 0 davanti al numero indica i secondi, utilizzando i tasti più e meno e confermare con il tasto SET. Per cambiare il tempo di pausa, menu successivo, premere il tasto SEL per scorrere tra le voci di menu fino a trovare TP e seguire la stessa procedura di modifica e conferma. Ad esempio, per impostare un tempo di pausa di 14 minuti, selezionare 14, utilizzando i tasti più o meno, e confermare con il tasto SET. Questa combinazione di tasti è valida per tutte le impostazioni di menu. La funzione RD casuale è disattivata di default e va attivata selezionando RD, premendo SEL per entrare. Usando il tasto più per visualizzare 1 e premere SET per confermare. La funzione TEMPI CASUALI utilizza i tempi massimi impostati dall'utente, esempio precedente 50 secondi di funzionamento e 14 minuti di pausa, senza mai rispettarli, pienamente, senza però mai discostarsi da essi più del 50%. La sensibilità del sensore luce va da 0 a 10 e si modifica allo stesso modo. Il menu è serve per uscire, altrimenti il dispositivo esce automaticamente dopo 7 secondi. Per creare una lista personalizzata, posizionarsi sulla voce L, utilizzando i tasti avanti o indietro, UP o DOWN, fino a trovarla. Di default, è inserita una lista con i valori 1, 2, 3, 4, 5. Per modificarla, premere contemporaneamente SEL e SET per editare la nuova lista. Con i tasti UP o DOWN, cercare il canto desiderato e aggiungerlo, alla nuova lista, premendo il tasto più. Si possono aggiungere da 2 a 5 canti. Una volta finita la propria sequenza personalizzata, aspettare 7 secondi che il dissuasore registri la nuova lista e esca da solo dalla modalità inserimento. Si può anche collegare un altoparlante esterno per raddoppiare la potenza del dispositivo e coprire un'area di terreno più estesa, fino a 10.000 metri quadri. Per una messa in opera veloce, selezionare un programma da P1 a P9. Queste liste sono automatizzate e basate su anni di esperienza, con tempi di accensione e spegnimento non modificabili. Se nessun programma preimpostato è adatto, è possibile selezionare un canto da C1 a C10 o creare una lista personalizzata. I tempi di funzionamento consigliati sono 40 o 50 secondi al massimo, con tempi di pausa di almeno 12 o 14 minuti con la funzione casuale attiva. La funzione casuale varia i tempi di funzionamento e pausa, impedendo agli uccelli di abituarsi ai suoni. Per qualsiasi ulteriore domanda inerente il funzionamento del dissuasore sonoro BS-20L, invia direttamente un messaggio tramite WhatsApp o una e-mail.